ciao a tutti ragazzi io sono maxi e in questo video vi mostrerò come avere il paracadute i flyer che c'era nella versione 1.16 che si poteva trovare solo nelle casse speciali allora cosa dobbiamo fare dobbiamo venire in un ammunition qualunque comprare un paracadute e comprare lo zaino ragazzi del portorico lo zaino del portorico che adesso andiamo a vedere una volta fatto ciò andiamo a vedere il resto del glitch questo è lo zaino del portorico cosa dobbiamo fare niente niente di più semplice un glitch facilissimo usciamo fuori dalla munation andiamo ad un comune parrucchieri innanzitutto mettiamo mostra paracadute sì e nulla e ci avviamo ad un parrucchiere che in pratica lì finiamo il resto del glitch anche perché se no così non non riusciremo a come come si dice ad avere questo benedettissimo paracadute no questa questa rarità diciamo chiamiamola così una volta arrivati al parrucchiere non basterà andare con la freccia destra per selezionare la seggiolina del parrucchiere diciamo no una volta andati lì andiamo su acconciature non selezioniamo nulla usciamo e come per magia ragazzuoli eccolo qui il paracadute i flyer questo paracadute potete tenerlo non potete diciamo trovarlo in nessun altro modo fate delle prove di abbigliamento perché non su tutti abbigliamenti appare questo paracadute e niente ragazzi una volta che avete questo paracadute andate a un negozio qualunque lo salvate il gioco è fatto che rimarrà come completo salvato e lo potete tenere per sempre ragazzi il glitch è questo un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.